Primi anni, preoccupazioni. Al momento della nanna pomeridiana, la creatura, comodamente adagiata nella sua carrozzina a tre posti, blu crepuscolo ostile, corassata putionchi in fantossi, gentilmente passata dai parenti, ribalta gli occhi mostrando alla mamma due biglie di un bianco satinato, per poi rigirarle volutamente, sghignaziando nel momento in cui percepisce che il panico della mamma, di corsa dalla pediatra, la creatura forse può rimanere strabica, oddio, tranquilla, la creatura ti prende per il culo, oh, per fortuna non è niente di grave, pensiero, che amorevole stronza piccola mia, I love you ma. Grazie